Sull'ultimo arma che hanno realizzato i comandi sono rimasti gli stessi riguardo alla prima e terza persona quindi in questo caso per mettere così la prima e terza persona basta che premi direttamente il tasto se c'hai la tastiera con il tastierino numerico e c'hai pure il tasto ENTER tu schiaccia ENTER ed ecco qua che mi metto in prima persona oppure direttamente il tasto per cancellare quando vai a scrivere qualcosa quindi c'è il tasto con la freccia che punta verso sinistra e si mette così in prima persona ovviamente questi comandi funzionano anche su armatrix quindi in questo breve tutorial ti ho spiegato come mettere in prima e terza persona sull'ultima arma che hanno realizzato quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao